Ci sono alcuni fattori che interferiscono con quest'iter di approvazione. Un primo fattore è la richiesta di allentamento delle norme di salvaguardia, in particolare sugli ulteriori contesti paesaggistici e l'altra riguarda la richiesta recente di modifica della legge regionale per portare in consiglio l'approvazione di questo piano. Su entrambi i fronti noi stiamo lavorando perché noi vogliamo approvare un piano che sia quanto più possibile condiviso e quindi il passaggio nel consiglio regionale potrebbe aiutare a rendere questo piano ancora più condiviso e d'altro canto per quanto attiene all'allentamento delle norme di salvaguardia se questo consente di evitare ricorsi e di evitare contenzioso giudiziario anche questo mi sembra saggio prevederlo. In questa fase stiamo dialogando con il ministero perché tutti sanno che questo è un piano adeguato al codice dei beni culturali, il codice urbani che prevede che per i beni paesaggistici ci sia copianificazione, quindi una pianificazione comune, congiunta, collaborativa tra ministero e regioni. D'altra parte devono essere tutti consapevoli del fatto che il paesaggio è tutelato dalla Costituzione italiana e che noi non possiamo più continuare a sfregiarlo ogni qualvolta si realizza qualche intervento contemporaneo, quindi occorre imparare a progettare perché il paesaggio non può essere congelato, non può essere museificato e peraltro gli stessi musei oggi noi li vediamo in modo diverso, più dinamico e però bisogna trasformare in coerenza con il paesaggio. Va modificato il modo di costruire, di realizzare, di trasformare il territorio spingendosi, orientandosi verso la sostenibilità dell'edilizia e noi abbiamo una legge regionale importante che ci viene, che dà anche dei premi volumetrici a chi realizza in maniera sostenibile. La rigenerazione urbana, pensate alle grandi strutture dismesse di questo territorio, dalla distilleria ai cementifici, pensate ai tanti capannoni abbandonati che possono essere recuperati e riqualificati. Ovviamente se non c'è una pubblica amministrazione che indirizza in questo senso noi rischiamo di continuare ad agire come nel passato e a perdere la gara della competitività su questo fronte. Pensate che entro il 2020 tutti gli edifici dovranno essere costruiti a consumo zero. Se non ci prepariamo verranno dall'estero imprese, progettisti e tutta la filiera dell'edilizia a realizzare nel nostro territorio e noi non saremo preparati.